Sono qui sul nostro Gran Coda Stenway per parlare del concerto pianistico, del recital di Grigori Sokolov, uno dei pianisti più importanti a livello internazionale. Per noi è un orgoglio poterlo riospitare qui a Chiasso venerdì 2 dicembre alle ore 20 e 30. Grigori Sokolov è riconosciuto come uno dei più grandi talenti non solo per la sua capacità tecnica di esprimere la musica ad altissimi livelli ma per la sua capacità introspettiva di entrare nelle partiture di una serie innumerevoli di autori e qui a Chiasso devo dire ci sarà credo forse una prima mondiale perché nella prima parte del nostro concerto eseguirà musiche di Henry Parsel, strano, stranissimo questa proposta da concerto ma sicuramente molto interessante perché andrà a rievocare una serie di composizioni del grande compositore inglese Henry Parsel nato nel 1659 e morto nel 1695. Che dire, è un evento ogni volta che Grigori Sokolov si mette al pianoforte per la sua capacità appunto mistica di interpretare la musica e la musica dal vivo è il momento più centrale per la complessità delle esecuzioni date da questo grande pianista e per la bellezza espressiva che sa rendere ogni volta. Nella seconda parte del programma musiche di Beethoven e di Brahms, le variazioni sul tema dell'eroica di Beethoven, le 15 variazioni. Quindi un programma veramente intenso, bellissimo e anche molto interessante soprattutto per capire dopo le interpretazioni di Coupren, di Bird, di Rameau, quindi autori del 600 e del 700 che Sokolov ha reso negli anni scorsi questa nuova interpretazione delle musiche di Henry Parsel. Quindi lo ascolteremo e invitiamo ovviamente gli appassionati e coloro che sono anche curiosi di ascoltare dal vivo uno dei più grandi pianisti di tutti i tempi ad arrivare al Cinema Teatro di Chiasso venerdì 2 dicembre alle ore 20.30 qui sul nostro Gran Coda Stenwi e ascolteremo le note di questo magnifico interprete.